Lavorando a un prodotto per ragazzi come Braccialetti per ormai tre anni mi sono reso conto prima di ogni altra cosa che gli adolescenti d'Italia sono molto migliori e più profondi di quello che si parla e si descrive ogni giorno. Secondo che dentro agli adolescenti c'è il possibile futuro dell'Italia. Il bisogno che esprimono gran parte degli adolescenti è di sentirsi in un gruppo, di rompere l'isolamento, di rompere la tragedia che è la solitudine.